ciao ragazzi bene allora intanto vi volevo dire che la promozione sul video corso è andata molto bene perché sono contento che in tanti avete capito quanto è importante saper gestire bene una coppia di cani non sterilizzati nel momento del calore perché è un po questo il motivo che molti non intendono tenere insieme due cani di sesso opposto allora improvvisano soluzioni tipo ne tengo uno solo ne tengo due dello stesso sesso insomma ne ho già viste sempre un po di tutti i colori invece specialmente per i cani da guardia l'unica vera soluzione quella di tenere un maschio una femmina e non sterilizzare allora oggi io vi vorrei parlare del secondo vantaggio che noi abbiamo parlo proprio del nostro vantaggio personale di tenere una coppia di cani piuttosto che uno il primo vantaggio ne ho già parlato nei video precedenti è quello di avere dei cani più equilibrati l'equilibrio estremamente importante non perché significa essere manlevati e manlevare tutti i nostri familiari da spiacevoli inconvenienti che sempre più spesso sentiamo parlare le cronache ma mai questo accade quando ci sono cani innanzitutto che vivono giorno e notte in un giardino tutto l'anno e vivono in coppia perché un po lasciandoli vivere in natura un po dando una femmina maschio e viceversa noi li mettiamo già in una condizione di vita dove l'equilibrio è dato quasi per scontato il secondo vantaggio è che noi riusciamo a gestire molto meglio due cani da guardia insieme piuttosto che uno e molti li sostengono il contrario come è possibile io ho sempre tenuto un cane facevo già fatica a gestirne uno adesso tu mi dici di metterne due e sostiene addirittura che più facile gestirne due che uno certamente perché ciò che vi semplificherà molto la gestione di una coppia di cani invece di uno è la concorrenza che loro hanno al cibo e quindi la grande considerazione poiché sono in concorrenza che loro tengono avvertono nei confronti del datore di cibo vi faccio una un esempio proprio facile da comprendere per chiunque allora supponiamo che voi abbiate un pezzo di carne in mano e se voi avete un solo cane lui dirà ho fame non ho fame se non ho fame sto qua se ho fame me lo vado a prendere però magari se questo pezzo di carne ha l'obiettivo di farmi entrare in un recinto più piccolo della proprietà intanto qui il cibo è sempre destinato solo ed esclusivamente a me di conseguenza posso pensare di non farlo e spesso un cane da solo per tutta una serie di motivi ma anche per la frustrazione che prova può verificarsi molto più disubbidiente che due cani nel momento in cui prendete un pezzettino di carne in mano e vi direzionate in qualche posto intanto come uscirete di casa con un pezzo di carne in mano saranno tutti i due cani per una proprio questa questione questo istinto di concorrenza a volerlo e proprio perché sono in concorrenza fra loro ce li avrete attaccati nel momento in cui voi vi direzionerete in qualsiasi posto del giardino sempre per l'istinto di concorrenza loro lo vorranno entrambe e volendolo entrambi vi seguiranno e saranno disposti tutti e due andare a prendere questo pezzo di carne dove voi lo buttate dove voi lo deponete e magari se corrisponderà col box di servizio dove voi volete farlo entrare avrete risolto questo problema ma è solo una delle cose che vi sto dicendo ad esempio sono molto più obbedienti a richiamo due cani che uno perché mettiamo che uno dei cani si faccia i fatti tuoi questi cani da guardia cani da gregge sono cani molto autonomi e non abbia nessuna intenzione di venire da voi se basta che uno dei due invece decida normalmente la femmina che è sempre più sensibile al richiamo anche il maschio la segue per questo discorso distinto di concorrenza al cibo quindi una cosa che vi posso proprio garantire parlando non più dei vantaggi del cani di vivere insieme ovvero vivere in coppia all'interno di un giardino facendo tutte le considerazioni di ciò che loro fossero animali liberi si andrebbero a cercare no lasciando perdere un momento il loro benessere psicologico che per me è assolutamente importante non mi sognerai mai di tenere un cane da solo né tantomeno non potrei mai cedere uno dei miei cani sapesse che va a vivere da solo in una proprietà se la prima clausola è avere una casa con giardino per poter adottare i miei cani la seconda è quella di essere sicuro che il cane potrà poi vivere con un compagno di sesso opposto e questo assolutamente può anche essere un cane non della stessa razza che allevo io insomma su quello poi si può parlare e vedere di trovare una soluzione ma lasciare un cane da solo non ci penso neanche però senza andare a tenere in considerazione il benessere psicologico del cane valutando in questo video solo i nostri vantaggi con secondo vantaggio è proprio quello che avremo cani molto più obbedienti se sono in due piuttosto di essere uno è molto più facilmente gestibili bene vi ringrazio tanto anche oggi per avermi ascoltato è ovvio che rimane la disponibilità ancora da oggi in poi del video corso però costerà 100 euro in più perché la promozione è finita ieri sera però anche 100 euro in più può valerne la pena assolutamente perché non avete idea se non imparate a gestire bene la coppia di cani non sterilizzati spero che non siate di quelli che trovano un facile rimedio nella sterilizzazione di uno o addirittura di due soggetti perché ho conosciuto le persone che non si sono accontentati a sterilizzarne uno ne hanno sterilizzate addirittura due ecco in quel caso sapere bene come bisogna comportarsi per dividere bene il maschio e la femmina gestirli nel periodo del canone assolutamente importante e saranno soldi ben investiti perché non avete idea entrambe i casi sia che li teniate sterilizzati sia che li teniate interi non imparate a gestire quanti soldi andrete poi a spendere per rimediare a tutte le cose che vi accadranno bene allora ancora vi saluto siamo qui io e carabbaia al di dietro che ha fatto da suggeritore c'era sconfio un junior e buona giornata a tutti a presto